e bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono Void Pro oggi ragazzi siamo su Clash Royale scusate ragazzi siete attento se non porto video su YouTube ma ho avuto un piccolo problemino sì ragazzi siamo tornati per fare la sfida Crown Championship ragazzi ho fatto già una partita e l'ho persa sì che ragazzi proviamo ad arrivare a 14 vittorie oppure andrebbe bene anche a 9 comunque proviamo ad arrivare a 14 se no come qui? 20 e vabbè ragazzi proviamo subito la prima partita cerchiamo di vincerla allora ragazzi nei commenti ditemi se il mazzo così va bene dopo ve lo farò vedere no ho fatto una cosa di merda abbastanza di merda no no Ah Una bella strega muore Eh infatti Vai 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 che ti butta giù la torre Sì vaffanmocca Vai 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 Sì Voi ci butta anche la fireball Oh cavolo Vai Sì Vai 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 No no raga Dai 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 Sì Andiamo raga Prima partita vinta Sì sì Allora ragazzi Ditemi se Il mazzo così va bene E se non va bene per voi Ditemi nei commenti Un mazzo che potete fare Cioè ditemelo a me che Cercherò di farlo Ragazzi continuiamo con un'altra Battaglia Ok livello 8 Diciamo di buona fortuna Iniziamo subito Lui con lo scheletro gigante Donnoia mortale lo scheletro gigante Metto Questo con il ghiaccio qua E gli scherzi E fa un po' di danno ma non tanto Vai Aspettiamo Aspettiamo 10 di sir Vai vai Nooo E' stato male E' stato male Va bene va bene comunque No 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 Via 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 ok 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 Levole un po' di vita, dai! Ok. Io buono, scherzo, gigante. Ho 5 di vita, non ci posso credere. No, ancora mettiamoci tutto. Perzo, c'è il pareggiato. Credo di aver pareggiato. Sì, è pareggiato. Oh, cavolo. Non parliamo troppo presto. No. No. Guarda che tutto qua sopra, tutto qua sopra. Tutto qua sopra. Pidolo. Ok. No. Vabbè, vabbè, ho perso. Eh, ragazzi, questa partita è andata male. Cos'è questo? Cavolo. Ma che ce la fai da solo? Scherzavo da solo, non ce la fai? Vai, 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 domatore, vabbè, domatore. Aspettate. Poi, torre giù. Boom. Ok. Poi, ragazzi, potrei fare strega gigante. Eh, oh, cavolo. Vai, vai, vai. Va bene. Gigante. Spitelli. Io Cristo e cogliongali. Vai, 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 vai. Poi. E vai, 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 vai. Vabbè, possiamo lasciarle così. Non stiegano, non stiegano. Facciamo così. Vai, vai, vai. Non facciamo nemmeno fare la torre. Non facciamo nemmeno fare la torre. Non è andato a care tantissimo ora. Non è andato a care tantissimo ora. No. Vai, 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 domatore. No. Dai, dai. Vinto. Sì. Andiamo, raga. Andiamo, raga. Andiamo, raga. Ragazzi, questo video si conclude qua. Ci sarà anche una seconda parte. E ragazzi, iscrivetevi al canale. Condividete il video con i vostri amici. E bella. Ciao.